Musica Ci si immerge nel mondo di Dante ma con gli occhi di Phillips. La mostra aperta a Palazzo Blu a Pisa propone un tuffo nell'inferno della Divina Commedia di Dante con la lettura che ne dà l'artista londinese Tom Phillips che tra la fine degli anni 70 e i primi 80 si è anche cimentato in una versione inglese dell'opera. In quell'occasione aveva accompagnato la traduzione in inglese, certo non proprio semplice, con una serie di illustrazioni, quasi un commento visivo delle tersine dantesche. Presidente, come si inserisce questa mostra nelle attività e nelle esposizioni che allestite qui a Palazzo Blu? La mostra è una partecipazione della Fondazione Pisa e di Palazzo Blu alle celebrazioni dantesche di quest'anno, questo settecentesimo anniversario. Palazzo Blu ha sempre seguito anche in passato le varie Dante Dio, Dante Prima e quindi questo è un po' il coronamento anche di questa serie di attività. Quindi siamo molto lieti di aver potuto ospitare questa mostra che è stata organizzata dal Comitato Dantesco, poi il professor Marcello Cicuto appunto ci parlerà di questo, e curata da Giorgio Bacci che è ormai un abitue delle nostre mostre, in particolare di quelle di grafica. Direi che un aspetto molto interessante da sottolineare di questa mostra è proprio questo inferno visto da un artista molto importante, molto interessante, inglese, che si è preso anche la briga di tradurre la cantica nella sua lingua, cosa non del tutto facile e quindi che evidentemente l'ha voluta penetrare a fondo e che è un'ulteriore conferma della, così si può dire fra virgolette, universalità dell'arte di Dante e della sua importanza nella nostra civiltà comune. Ecco, ma c'è una parte della mostra che l'ha colpita di più, insomma, mentre la vedeva allestire? Ma direi che la mostra va vista tutta, nel senso che ogni singola immagine va riflettuta, interpretata e anche goduta, indipendentemente dalla traduzione dei concetti danteschi, nella bellezza molto molto importante, veramente notevole di queste opere, che usano oltretutto delle tecniche anche molto diverse. Ecco, questo credo che sia veramente godibile anche al di là di un approfondimento continuo. Peraltro sono anche citati i canti danteschi ai quali si riferisce, quindi si può fare un collegamento. Redatte con le più svariate tecniche, serigrafia, incisione, litografia, mezzatinta, eccetera, le immagini sono esposte nelle sale di Palazzo Blu. Promossa da Fondazione Pisa, Società Dantesca Italiana e Comitato Nazionale per Dante 700, l'esposizione è curata da Giorgio Bacci. La mostra, inaugurata nelle scorse settimane, rimarrà aperta fino al 5 settembre, dal 28 giugno e visitabile gratuitamente fino a fine luglio. Lei ha curato un po' l'allestimento della mostra, ecco, quali sono i criteri che ha utilizzato nel metterla su? La mostra presenta le 139 immagini che Philips ha elaborato tra 1979 e 1983, appunto dedicate all'Inferno. Ed è la prima volta che in Italia vengono presentate tutte le immagini complete. Incredibilmente questo grandissimo maestro, artista contemporaneo, non era ancora stato presentato adeguatamente in Italia. Questa direi che è un'occasione eccezionale perché appunto consente di vedere l'opera completa dedicata all'Inferno. Ecco, è difficile avvicinarsi a queste opere. Si tratta di un'interpretazione d'artista, quindi queste opere pongono una sfida sia agli storici dell'arte, appunto in senso interpretativo, riagganciandosi al testo dantesco naturalmente, sia inversamente agli storici invece della letteratura che per leggere e ritrovare Dante devono interpretare sottilmente le immagini di Philips. È una delle caratteristiche dell'opera di Philips, dove la biografia, la vita dell'artista arriva a fondersi con quella del letterato e del poeta, cioè di Dante. Questo lo si vede molto bene ad esempio nell'illustrazione che apre la serie con Dante nello studio ed è un Dante che è frutto di una crasi stilistica e artistica per cui il riferimento a Orvieto di Signorelli naturalmente si fonde con invece le fotografie delle mani di Tom Philips che compongono quindi un Dante filippesco, per dire così, ma al di là della battuta vuol dire che appunto Philips si presenta come artista che erede di una tradizione figurativa importante, interpretativa importante e allo stesso tempo come autore gli stesso. Infatti non è un caso che molti dei commenti che potete trovare inseriti all'interno delle immagini provengono da un testo che funziona da specchio biografico, diciamo, di Tom Philips che è Humument, frutto appunto di una rielaborazione deturnante di un libro vittoriano, di epoca vittoriana intitolato Human Document. E così come appunto Philips ha reinterpretato la propria vita e la propria vicenda artistica deturnando il libro appunto di Melloc, così reinterpreta anche il viaggio di Dante nell'Inferno. C'è qualche opera a cui è, come dire, più legato? Ce ne sono molte. Il lavoro che Philips ha sviluppato per l'Inferno è complesso e denso di richiami e riferimenti stilistici intrecciati gli uni agli altri. Per cui, ad esempio, la figura della maschera primitiveggiante può servire a richiamare il volto, la figura di Per delle Vigne, oppure la maschera di Omero. Ho ancora il veltro, può essere replicato a rappresentare invece i levrieri che inseguono l'anno Jacopo nell'illustrazione che vedete alle mie spalle. Ho ancora la selva dei suicidi, composta da una serie di lettere che appunto compongono la parola selva e queste lettere a un certo punto si trasformano nei corvi del campo di grano di Van Gogh. E questa struttura appunto stilistica riprende la selva oscura iniziale appunto formata da questo tappeto pittorico di lettere. I richiami di questo tipo appunto caratterizzano tutte le opere definendo una poetica pienamente postmoderna per cui i riferimenti alti, pittorici, ad esempio per Paolo e Francesca, Agli Adamo e Eva, Michela Angioleschi, arrivano a fondersi con la cultura pop, ad esempio di King Kong, che rappresenta il gigante Anteo che porta in braccio Dante Virgilio. E ancora nella stessa immagine appunto di King Kong, i grattacieli di New York arrivano a sfiorarsi, a fondersi invece con l'immagine di una cittadina medievaleggiante, probabilmente San Gimignano appunto. E ancora un altro riferimento che è possibile vedere è quella, è la crasi, ancora una volta stilistica, artistica, che porta le immagini di Blake, riferimento alle immagini di Blake, a fondersi con i fumetti contemporanei. Per chi volesse comprenderla e addentrarsi, come dire, ulteriormente nella mostra, c'è anche un catalogo? C'è un catalogo appunto pubblicato da ITS che riporta tutti i commenti delle immagini appunto scritte da Tom Phillips e poi dei saggi introduttivi. La guida è essenziale per poter capire appunto le immagini perché, come dicevo prima, i riferimenti a Dante convivono e si fondono con quelli proprio della cultura visiva e artistica di Phillips. Professore, quanto l'artista è riuscito a cogliere appunto dello spirito che permea tutta la Divina Commedia, in particolare l'Inferno? Certo, Phillips è un autore molto colto e quindi è riuscito quasi a riscrivere il poema dantesco in una chiave moderna e ricca di analogie, di rifrazioni, di riflessi culturali sparsi in ogni direzione. Direzioni che non riguardano la biografia dell'artista, noi non riceviamo un'immagine univoca di Tom Phillips che riflette sulla commedia, no, abbiamo invece come una sorta di espansione verso l'universo, di apertura di spazi per la nostra fantasia, per il nostro nuovo, nuova e rinnovata interpretazione di Dante e visualizzazione di Dante. Veramente ha fatto un lavoro molto ricco, molto ricco dal punto di vista culturale. Ecco, ma l'artista è riuscito a fare ciò, quindi a mettere anche insieme cultura, storia di 700 anni fa con la modernità, con la contemporaneità, sforzandosi oppure Dante, come dire, gli ha permesso ciò perché comunque attuale e tra virgolette contemporanea? Beh, Dante è il punto di riferimento, il punto di partenza e, come dire, la filigrana di tutta questa lettura che Phillips ha fatto. Teniamo conto del fatto che Phillips ha anche tradotto in inglese il testo della commedia e ha... dell'inferno, naturalmente. E ha anche commentato ampiamente le sue immagini. In questa collaborazione fra parole e immagini su Dante ha creato un'opera nuova della tradizione interpretativa del poema dantesco. C'è qualche opera, qualche immagine, come dire, che l'ha colpita maggiormente? Eh beh, certo, sono tantissime. Quasi tutte richiederebbero un'attenzione molto ampia. Una in particolare, che riguarda il canto secondo dell'inferno, è presente a Virgilio. Voi la vedete qui alle mie spalle. Il personaggio di Virgilio, che, come sapete, ha una funzione importantissima come guida di Dante all'interno della commedia, ma non è il Virgilio personaggio di una narrazione. È un Virgilio ricco di simboli. Lo vedete privo di una fisionomia, perché, dice Phillips, non abbiamo immagini autentiche di questo poeta e quindi rimane, come dire, irriconoscibile da questo punto di vista. Ha un libro aperto davanti, è il testo dell'Eneide, ed è aperto sul sesto canto dell'Eneide, fonte decisiva per la scrittura della commedia dantesca. Un segnalibro addirittura indica poi, invece, il testo della quarta ecloga, quella che nel Medioevo si considerava una sorta di anticipazione dell'Avvento del Cristianesimo, dell'Avvento di Cristo. Altri simboli sono tutti perfettamente coerenti con questa lettura di Phillips. Ad esempio, sulla sinistra in basso, vedete una stella a sette punti deformata, con dei simboli alchemici, sta a ricordare quella leggenda di un Virgilio mago molto diffusa nel Medioevo e anche qui, naturalmente, si potrebbero spendere tante interpretazioni. Alle spalle di Virgilio stanno poi le sette mura del Castello della Fama, che è il Castello del Limbo, all'interno del quale ha trovato luogo e definitiva sede proprio la figura storica e leggendaria di Virgilio. Altri simboli ci sono, chiudo, indicando quelle due spade che sono appunto sempre un po' in ombra, alle spalle di Virgilio. queste due spade rappresentano la poesia epica, sono il simbolo della poesia epica. Una è quella di Omero, l'altra è quella dello stesso Virgilio. Lo spazio all'interno è destinato a Dante, che scriverà il suo poema epico, il suo nuovo poema epico, però con chiari riscontri teologici e con una prospettiva del tutto nuova. Contributo è importante per l'allestimento è stato dato dal professore Alberto Casadei. Dante, a vedere da queste immagini, è sempre attuale? Beh, Dante è attuale e soprattutto è in grado di dare idee a chi lo vuole rappresentare. Noi siamo abituati a Dalì, per esempio, o prima ancora a Dorè, e abbiamo naturalmente in questo senso tante immagini che ci turbano, ci inquietano, ci incuriosiscono. Ecco, queste di Tom Phillips sono del tutto nuove, anche rispetto a un surrealista come Dalì o a un grande realista Michelangelesco come Dorè, con una tecnica postmoderna. Phillips riesce a mettere insieme tasselli del testo di Dante con delle immagini che ci spiazzano, che ci ricordano la nostra contemporaneità, ci fanno capire quanto Dante è dentro alla nostra storia. I giganti sono come King Kong e vedere King Kong è stato per molto tempo pauroso quanto i giganti di Dante nel basso inferno e quindi Phillips riesce a rendere attraverso questo collage con immagini contemporanee gli stessi effetti che Dante si proponeva ai suoi tempi. Questo è molto importante, ci rende attuale Dante con le nostre immagini ma facendoci provare quello che voleva farci provare lui. Domanda forse difficile, ma c'è un angolo, una parte della mostra o un'opera che le sta più a cuore? Beh, io parlerei proprio dell'immagine finale, perché qui Tom Phillips riassume tutto il percorso attraverso l'inferno, tutte le immagini che ha mostrato sono riprodotte qui in piccolo, ci sono le storie degli uomini, ci sono personaggi famosi e invece personaggi che nessuno ricorda ma che sono fondamentali e in più però c'è il senso di tutto il percorso di Dante, c'è il rivedere le stelle che è il finale dell'inferno, c'è il salire alle stelle che è il finale del purgatorio e c'è l'intero finale di tutta l'opera, l'amor che muove il sole e le altre stelle. Ecco, in questa immagine con un grande libro in forma di sole che guarda verso le stelle, che guarda verso l'infinito, c'è la sintesi di tutto il poema, quindi Phillips attraversa tutto l'inferno ma in un certo senso ci va a vedere la speranza che non è solo l'uscita dall'inferno ma anche un salire verso le stelle e un andare verso questo amore che congiunge tutto l'universo e anche le altre stelle. Più che mai attuale? Più che mai attuale in questo periodo in cui cerchiamo la speranza e in cui appunto noi abbiamo bisogno di vedere come si può superare l'inferno, ecco l'attraversare tutto l'inferno è il percorso che ci fa vedere Tom Phillips ma alla fine c'è questa immagine che ci fa vedere anche dove si va oltre l'inferno. La Divina Commedia è un'opera non proprio semplice, ecco queste illustrazioni secondo lei possono aiutare il lettore, lo studioso ad avvicinarsi ulteriormente a comprenderlo oppure no? Aiutano senz'altro, non nascondo certo una certa qual difficoltà che può incontrare l'osservatore e il lettore che magari presume di poter guardare le immagini senza un aiuto. Questo aiuto noi lo abbiamo fornito nell'allestimento della mostra con un volumetto che contiene tutte le letture di Tom Phillips delle varie immagini e lo abbiamo fatto all'interno del catalogo che fornisce tutti i segni e tutti gli strumenti utili per poter capire di più perché una cosa è fondamentale di questa mostra, la lettura di Tom Phillips aiuta a capire meglio Dante, è una lettura nel tempo della Divina Commedia e come tale si pone come ipermoderna, come contemporanea e adattissima al pubblico di oggi che se fa questo piccolo sforzo di arrivare a Palazzo Blu per vedere questa mostra ne sarà ripagato ampiamente perché si arricchirà intellettualmente. Grazie per la visione!